Allora, intanto grazie, immagino, grazie per i ringraziamenti, grazie a Paolo per avermi invitato e grazie a voi di essere qui ad assistere appunto alla presentazione di questo libro di Aboma, oltre alla Cassazione, il titolo è un titolo di un documentario che Paolo ha realizzato ma è un titolo, diciamo, particolarmente azzeccato perché, come tutti noi sappiamo, un processo qualche anno fa si è concluso e oramai siamo oltre la sentenza della Cassazione. Dopo quasi trent'anni siamo ancora qui a chiederci che cosa è accaduto il 7 agosto del 1990 in un posto molto particolare, immagino che tutti voi l'abbiate visto, i romani lo conoscono un po', no? È un comprensorio, dove dentro ci sono appunto montane, tutti i figli, e ci sono sei palazzine. E appunto in una di queste palazzine, al terzo piano, è morta la povera non è morta, non voleva. Esatto, non voleva, come fa notare l'avvocato Loria, lei probabilmente avrebbe preferito continuare a vivere, ma appunto è stata uccisa. Ecco, qual è la particolarità di questo libro? Intanto è un libro che raccoglie il lavoro di tre autori diversi, no? Tra loro che appunto c'è Paolo Cocchi che è un documentarista, ma insomma diciamo un nuovo, no? Poi chi lo segue sa che insomma lui è diventato particolarmente, ha raccolto particolari attenzioni per un libro che ha fatto qualche anno fa sui delitti del mostro di Firenze. Poi c'è un avvocato che è l'avvocato dell'ultimo imputato, possiamo dire, no? Perché non è il solo, ovvero Ragnaro Busco, cioè che è l'avvocato Paolo Loria. E poi abbiamo il professor Bruno che è un noto criminologo e non sono, ma diciamo è stato... i criminologi di oggi si sono formati fondamentalmente alla sua scuola. Ecco, questo credo che si possa dire con grande tranquillità. E tutti e tre hanno avuto a che fare con il delitto di avvocato. Ovviamente Paolo più recentemente, no? Ma anche il professor Bruno a suo tempo, no? è stato coinvolto direttamente nelle indagini. La caratteristica di questo libro è che restringe molto il campo. Diciamo che chi conosce il caso, leggendolo, si fa un'idea molto precisa di chi possa essere il colpevole. Ma anche chi non lo conosce, cioè chi non lo conosce sarà certamente portato a pensare che il delitto si è consumato in un ambito ristretto al palazzo, anzi di più, all'ufficio. All'ufficio. Quindi la caratteristica del libro è che restringe il certo. Intanto spiega perché molte ipotesi che sono state fatte e che ancora vengono fatte, perché di questo caso si continua a parlare molto, diciamo, devono essere considerate meno realistiche e perché invece tutte le ipotesi che hanno a che fare con quell'ufficio, invece probabilmente potrebbero portare a una visione molto realistica di quello che è accaduto. Io personalmente, insomma, la penso un po' come Paolo, cioè nel senso che ci siamo anche confrontati più volte su questo delitto. Tra breve entreremo dentro il processo che io ho seguito, l'Avvocato lo sa, cercheremo di capire anche le dinamiche di quel processo, le logiche, e cercheremo, insomma, cercheremo anche di capire perché si è finiti ad incriminare l'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni, ovvero Renaro Busco. E poi cercheremo di capire con il professor Bruno anche e soprattutto, insomma, leggendo quello che ha scritto ho capito perfettamente che cosa ha in mente il professor Bruno, ma non è una novità, insomma. Ma cercheremo di capire, cercheremo di capire che cosa è accaduto anche in quei giorni, intorno, cioè quando sono iniziate le indagini. Bene, allora, io dico che intanto Paolo, Paolo Cocchi, perché più qui di Paolo ce ne sono due, Paolo poi intanto ci racconta la genesi del libro, che mi sembra, no? Ecco, solitamente l'autore parla per ultimo, no? Ma probabilmente poi ci saranno molte domande, no? Ma avendo qui il professor Bruno abbiamo deciso di, no? Far parlare appunto per ultimo il professore. Dunque, il libro, appunto, come dicevi tu, nasce dal documentario, nasce dal documentario che non è uscito ancora in forma integrale, ma è stato trasmesso nella versione più corta, ed è il mio lavoro che è quello che ricostruisce i fatti, viene la prima parte, e riguarda appunto la ricostruzione del caso, la ricostruzione a livello temporale, documentale, storica, e lo fa come? Lo fa facendo parlare i personaggi che hanno vissuto questo caso, attraverso gli atti di indagine verbali, e mette a confronto appunto determinate dichiarazioni di determinati personaggi con poi quelle che poi sono venute al processo. Da qui nascono molte incongruenze. Il mio compito, il mio obiettivo è stato appunto quello di raccontare la vicenda e di farlo in maniera documentale con gli atti e con i verbali. Spero di esserci riuscito, ho dato anche un taglio cercando di circoscrivere, come dicevi tu, la storia perché è molto ampia, senza trascurare anche gli altri aspetti, e mettendo insieme determinati atti interrogatori, secondo me, anzi secondo noi, perché poi si delinea un quadro abbastanza verosimile, abbastanza verosimile e chiaramente non c'è una prova schiacciante, questo, la pistola fumante non c'è, però attraverso gli atti e guardando determinati atti e determinati interrogatori si capisce un po' cosa è successo il 7 agosto del 90, a mio avviso. Allora, intanto cominciamo ad entrare dentro il caso. Una cosa la devo dire, io ho assistito al processo di primo grado, oltre che appunto anche a quello di secondo grado. E devo dire che è quest'uomo che sta qui, io l'ho visto davvero, ha vissuto sicuramente in quel momento una grande solitudine, perché si capiva subito, l'ho capito io da giornalista, i miei colleghi erano d'accordo con me, diciamo che avevo già deciso prima di iniziare il processo. È brutto dire questa cosa, me ne assumo tutta la responsabilità, no? Però la mia impressione è stata questa. E insomma, in un clima così non è facile difendere un imputato. Lo so benissimo, ma normalmente non è facile difendere un imputato. E quando parli di solitudine posso anche capire cosa intendo. Ti spiego quella che è la mia solitudine, o la solitudine dell'avvocato che si trova davanti ad un collegio e deve cercare di difendere al meglio l'imputato, se esso colpevole o non colpevole. Perché noi non siamo i perimeson che risolvono il caso, fanno assolvere l'imputato e portano il colpevole davanti al giudice. Non è così. Anche l'imputato colpevole, certamente colpevole, deve essere difeso. Deve essere difeso non perché deve essere salvato dalla galera o deve essere assolto, ma deve essere difeso perché deve avere un processo giusto secondo quello che prevede il rito del processo e così via dicendo. La solitudine perché? Perché ad un certo punto l'avvocato si trova davanti al pubblico ministero. Tutto il resto scompare. Scompare l'imputato, scompagno i testimoni. Io ho un avversario che è il pubblico ministero con le sue tesi, con le sue prove, con la sua potenza enorme di fuoco, perché il pubblico ministero ha la polizia, ha i carabinieri, ha la guardia di finanza, ha la forestale, ha tutto a disposizione, tutti i metri tecnici e non ha limiti neanche di speso. Se ne andiamo a pensare, quello che si spende per le intercettazioni telefoniche sono centinaia e centinaia di migliaia di euro, qualche volta milioni di euro. Cioè è una potenza di fuoco terribile. Io mi so, con una capacità di indagine, una possibilità di indagine estremamente limitata, e dal punto di vista economico e dal punto di vista tecnico, la solitudine è questo. La lotta è tra l'avvocato e il pubblico ministero. Detto questo, vediamo bene. Detto questo però adesso cominciamo a entrare un attimo dentro. Entriamo nella solitudine del tuo gesto. Era evidente. Io credo che intanto, forse, raccontaci un attimo chi è Busco, perché credo che poi sia il dato importante anche parlare. Chi era questo imputato? Cioè sì, era l'ex fidanzato, ma insomma, poi alla fine Busco era tutto sommato. La prima impressione che ti ha fatto, qual è stata? Quando l'ha incontrato per la prima volta? Busco era, l'ho incontrato, era un uomo spaesato. Un uomo che, diciamo, si trovava frastornato da una vicenda che era molto, ma molto, ma molto più grande di lui. Una vicenda enorme. Poi, oltretutto, è un operaio, una persona normale, non ha disponibilità economica della potenza. È stato fortunato da questo punto di vista perché è stato aiutato da tutti, ma è stato pesantemente aiutato da tutti. Beh, sono aiutato da te, da Coppi. Sì, 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 da me, da Coppi non soltanto, ma anche il professor Novelli, che è un luminare, non ha chiesto la riva, tanto per dire, anche il professor Manidocchi, cioè tutti quanti si sono prestati perché hanno capito, chissà perché, c'è stata una corrente di opinione pubblica, dall'inizio è favorevole a questo ragazzo. È un ragazzo semplice, un ragazzo, diciamo, possiamo dire normale, se normale ha un significato, no? Attaccato alla famiglia, vive bene la sua vita, normale, regolare. Uno dei motivi di litigio così volente era, per esempio, il fatto che lui se lasciasse la sera, per andare a fare compagnia alla madre che è arrivata vedova. Questo, diciamo, per dipingere un attimino Busco. Questo è il soggetto, che si trova davanti ad un Moloc che lo vuole distruggere. E non è una sensazione semplice, non soltanto per un Busco qualsiasi, ma anche per una persona che ha un carattere molto difondato e un'esperienza molto più che su. Ritengo che sia un'esperienza tragica per tutti. Ecco, allora, inizia il processo, cominciano ad arrivare i testimoni, ci sono state testimonianze molto importanti, naturalmente le prime sono state quelle dei familiari, della madre, della sorella, poi a seguire tutte le altre. La strategia del PM è molto chiara, punta a un omicidio passionale, basandosi tra l'altro, ecco poi vorrei che tu queste cose un po' ce le raccontassi, basandosi su una vita relazionale completamente diversa rispetto a quella che il PM tenta di presentare, di far passare appunto nel momento in cui espone la sua tesi accusatoria. Ecco, quando hai capito che le cose si mettevano male? Forse c'è un errore di impostazione. Le cose non si sono mai messe male. Quello che era messo male, diciamo, il pensiero del giudice, che era male impostato, ma il processo non è andato male. Tanto è vero che il secondo grado non ha portato niente di nuovo, si è semplicemente limitato ad esaminare quello che è successo nel primo grado e riderci sopra, perché vi posso garantire che nel processo di secondo grado il collegio per Italia ha riso sopra e ha sbeffeggiato, ha svillaneggiato, ha svillaneggiato, Garofano, tutti i list di Parma, tutta la clinica, tutta la medicina legale dell'Università di Roma e anche la clinica odontoiatrica dell'Istema, veramente presi a poissons le visage di quelli francesi. Abbiamo un cesto di triglie, pa, pa, e distribui la triglie in Francia a tutti quanti. Per cui il processo di primo grado non è andato male. È andato male il risultato perché evidentemente c'era già un'impostazione, perché è evidente che il collegio si è appiccicato come un franco bollo sulle tesi del Pubblico Ministero, che poi le tesi non erano ma c'era soltanto una sola tesi e poi tutto un contorno creato intorno. Ecco, ti sei stato chiaro? Sì, è stato chiarissimo, spieghiamo, perché poi non tutti hanno seguito proprio nei dettagli. Nel processo di secondo grado i due giudici, i due magistrati, i due giudici chiedono una superperizia su tutto quello che è accaduto appunto durante il processo di primo grado. E quando ascoltiamo, c'ero, stavo dietro l'avvocato, un po' dietro dove stavano i giornalisti, esce fuori esattamente quello che l'avvocato ci ha raccontato. Questi signori, superperiti appunto, non romani, ecco questo è molto importante, non romani, fatti venire da Università dell'Italia, molto lontane da Roma, cominciano a dire allora, il morso non è un morso, non esiste, forse è un'inghiatura, e voi tenete presente che il processo di primo grado è stato quasi tutto giocato su perizie contro perizie legate al fatto che era la dentatura di Busco quella che aveva lasciato il segno sul capezzolo della povera Simonetta. Non solo, ma superperiti ci hanno detto, guardate che nelle aule dei tribunali di mezza Europa e soprattutto nelle aule dei tribunali degli Stati Uniti, questo tipo di prova non entra. Se voi dite, secondo me gli ha dato un morso, adesso ti dimostriamo che il giudice americano, ma anche in Europa questo accade, si mette a ridere e dice se questa è la prova che hai, il processo non si fa, perché evidentemente non viene nemmeno presa in considerazione, nemmeno come indizio. Escono fuori tutte queste cose, ma Paolo escono fuori anche altre cose, per esempio esce fuori il fattore genetico. Esatto, in relazione al fattore genetico, perché racconta un attimo... Beh, in realtà nel procedimento Busco viene trovato il suo DNA nel corpetto e nel reggiseno della vittima, però bisogna anche tener conto, e questo il primo grado forse non ne tenne conto, del fatto che il reggiseno e il corpetto è un qualcosa che viene dall'esterno e quindi Busco essendo il ragazzo ed essendosi appunto visti anche la sera prima, poteva essere benissimo un elemento di contaminazione esterna. Mentre sulla porta dove fu rinvenuto il sangue di gruppo ha del misto a quello di Simonetta, quindi della vittima e dell'omicida, presunto omicida penso, comunque, viene trovato un DNA di compatibilità con Raniero Busco e questo sarebbe stato un fattore forte e determinante. Il problema è che il DNA non ha una compatibilità o è o non è. Esatto. E quindi mancavano dei, non mi ricordo quanti adesso, quante... le su sedie. Ecco, 8, quindi la metà, il 50%, quindi è come dire... Un DNA compatibile con il sangue di tutti noi. E' come dire, un codice fiscale mancano otto numeri e otto lettere. E quindi non si è trovato nessun elemento, rimane questo gruppo A maschile, questo fenotipo maschile su quel sangue. Però purtroppo il sangue poi è finito con le varie analisi. Esatto, sì, è stato consumato. Ecco, poco fa appunto l'avvocato ha detto, no, era compatibile, 8 su 16. E Busco non aveva gruppo A. E l'ha detto al giudice, perché io mi ricordo che tu, insomma, gli hai fatto notare, insomma, ma no, durante la sua ringa gli hai detto, beh, però no. Ecco, questo per farvi capire, no, il clima del processo di primo grado. E' stato davvero duro da affrontare. Secondo me, eh, secondo me, poco. Professore, allora, intanto, mi permetta di farle una domanda che ho in testa di farle da tanto tempo, no? Quando andiamo al 1990, o giù di lì, insomma, no, i mesi immediatamente successivi. Io ricordo, ho letto molte interviste in quel, diciamo, risalenti a quel periodo lì. E, diciamo, a un certo punto, no, poi lei mi dirà se mi sbaglio, no, quello che ne ho richiamato io, è che il capo della polizia dell'ora si rivolge al professor Bruno, appunto eminente criminologo italiano, e gli dice, no, di andare a vedere e soprattutto ad aiutare, no, gli investigatori, no, che era, appunto, che era la squadra mobile di Roma che stava conducendo le indagini. Ecco, la domanda è, poi entriamo dentro le cose, però è da tanto tempo che voglio chiedergli, perché secondo lei il capo della polizia ha sentito la necessità di mandare un criminologo importante, insomma, no, a vedere che stava accadendo. perché io ricordo di aver letto della situazione di Via Boma, del fatto di Via Boma, sul giornale normale o no, forse addirittura che avevo sentito la radio, e avevo sentito che questa ragazza era morta, era morta nell'appartamento di ufficio di Via Boma, e ritenevo che tutto fosse semplice, anche perché era un omicidio in quel momento, che evidentemente aveva a che fare con un fatto passionale, insomma. E dopo un po' di tempo, però, mi telefonò al capo della polizia e mi chiese di occuparmi di questa cosa. Questo nasce dal fatto che in quel momento in particolare ci erano stati altri fatti in cui avevo dato un contributo che era andato bene. Quindi se mi ha telefonato lui era perché aveva capito che forse non ce l'avrebbero fatto, che c'era qualche problema. quindi mi disse aiuta in prota il quale era il questore. Allora in prota non aveva bisogno del mio aiuto perché era un signor poliziotto. Però in quel momento, io ho capito dopo, quando sono intervenuto nei primi momenti del fatto, sia il capo delle indagini di allora, che era il capo della scuola mobile, Nicola Cavaliere, erano tutti convinti del portiere. Perché? Perché il portiere aveva... cioè il concetto era questo. Questa ragazza era stata assassinata e le persone che erano sulla porta non avevano visto nulla. Quindi nessuno era entrato e nessuno era uscito. Allora a questo punto, dalle prime indagini, seguendo il sangue della povera Simonetta, erano tracciato un percorso che solo il portiere poteva aver fatto. in più il portiere, cioè in più erano state... il teatro dell'operazione era stato in qualche modo ripulito anche se non completamente e le tracce di questa pulitura erano tracce professionali. Per cui il portiere era il primo sospettato. solo che non c'era, anche lì, non c'era la pistola fumante, cioè non c'era sicuramente una prova, non c'era niente di sicuro. Per cui mentre la polizia... Si ma questo però dopo un po' di tempo. La polizia sospettava il portiere, però non aveva elementi per imputargli niente. Quindi il fatto però mi convinse, cioè io vedendo tutte le fotografie, tutto il percorso, mi convinse esattamente della ipotesi del portiere, cioè che il portiere aveva partecipato o aveva organizzato la polizia delle cose. Quindi la polizia non ha mai creduto che il portiere avesse fatto solo la polizia, pensavano che avesse ucciso direttamente Simonetta. E in ogni caso cosa successe che mi ricordo, parlai con il magistrato, il magistrato era completamente fuori dall'equilibrio, aveva perso qualunque equilibrio, quindi andava cercando addirittura oroscopi o cose di questo genere e non credeva più a niente. Ma quello che convinceva fortemente gli investigatori della responsabilità del portiere era il fatto che questo negava assolutamente qualunque informazione, cioè non diceva niente, fino al punto in cui l'hanno arrestato perché avevano trovato il famoso sangue sui pantaloni, che poi si dimostrò essere sangue suo. Ma quando in quel momento lo arrestarono, anche in quel momento il portiere non disse niente e solo ad un certo momento, notturno, in piena difficoltà, fece lui la descrizione di questo signore che sarebbe sceso con un fagotto sotto il braccio che avrebbe dovuto contenere i vestiti di Simonetta e se ne sarebbe andato. Questo racconto fu fatto da lui, fu fatto dalla moglie e immediatamente la polizia cominciò a seguire questa storia per poi scoprire che questo signore, che era comunque uno che lavorava lì presso la sede dell'AEG, Forza si chiamava, Forza. Esatto, questo signore non era in quel momento in Italia, fortunatamente per lui stava in vacanza in Grecia, in Turchia, non è in Turchia. Gli sarebbe successo se fosse stato in Italia, quindi costui se ne è uscito. A questo punto ancora di più, ricordo in prota, nessuno riusciva più ad avere un senso di ragione, perché tutti insistevano sul portiere e pregavano in tutti i modi che il portiere parlasse. Erano sicuri che il portiere sapesse e quindi doveva parlare. Infatti ho avuto modo di parlare, oltre che con lei, ho avuto modo di parlare con il capo della mobile di allora, che mi ha ribadito fino alla nausea che secondo lui il portiere non poteva non sapere che cosa era accaduto. Forse, mi ha detto appunto Nicola Cavaliere, ma l'ha detto anche pubblicamente, quindi insomma lo possiamo senz'altro dire, probabilmente forse non ha partecipato al delitto, ma certamente è entrato dentro la scena, è entrato nella scena del crimine e ha fatto qualcosa, ha depistato. Allora, nessuno sa, a questo punto io poi uscì da queste investigazioni, anche perché il portiere venne liberato e venne risolto nei suoi problemi qualunque sospetto, perché non disse niente e la polizia a un certo momento dovette accettare questa cosa. Ma soprattutto quello che a me mi lasciò molto perplesso fu che il magistrato e la squadra di investigatori nel suo compresso non valutassero minimamente per nessuna ragione che l'omicidio nasceva e si era concretizzato all'interno di quell'ufficio. Quindi nessuno valutava questo, valutavano di tutto, sono giunti a pensarle tutte, io mi ricordo che mi hanno portato una lista di una decina di responsabili che erano i più lontani possibili da ogni rapporto con... Oh, poi per non dire, io ho partecipato a questo libro e questo lo voglio dire subito, perché, non perché per partecipare e individuare chi fosse l'assassino, che è molto semplice e tutti quanti voi potete capirlo, ma solamente per dire quello che succede in Italia nei casi che vengono portati ogni giorno in televisione, difficili. Ricordatevi che se non c'è uno che va lì e gli dice a uccidere tale persona è stato Pinco Pallino, non c'è niente, nient'altro, e si basa solo sulla testimonianza, cioè ci vuole uno che vi denunci. Quindi attenzione, state attenti perché tutti quanti, noi, voi, siamo in questa lista e chiunque si può sognare. Allora fatemi capire perché Busco avrebbe dovuto uccidere la sua fidanzata, per quale cazzo di motivo? Va bene che sappiamo che c'è il femminicidio, tutto quello che volete, però questo è un motivo che me lo devono spiegare innanzitutto i magistrati. I magistrati devono capire che quando se la pigliano con un poveraccio devono dire anche perché questo poveraccio avrebbe fatto quel tale delitto, perché i delitti non si fanno come uno si mangia una gomma americana, capito? Come diciamo ci vuole il movente. Ci vuole un movente, un movente magari folle, magari tutto quello che volete, ma un movente ci vuole, quindi bisogna cercarlo con attenzione. Questo è il lavoro che noi abbiamo fatto, per cercare di capire, di far vedere come ci fossero tanti moventi, ma nessuno è stato mai esplorato in nessun modo. E sono giunti fino al punto, fino al punto che veramente è vergognoso, non è vergognoso solo che hanno processato Busco, che solo l'abilità di questo avvocato e di tante altre cose è riuscito ad assolverlo. A salvare, poveraggio. A salvare. Ma voi dovete pensare che questo povero portiere è stato suicidato, è stato suicidato. Questo lo dico, lo affermo e lo confermo. Potete fare quello che volete. E l'anno, nessuno si è ribellato, nessun idiota, quando parlo di idiota intendo giornalisti, anche se lui... Nessun idiota ha scritto sul suo giornale ma come cazzo mi viene in mente di dire che si è suicidato un poveraccio così, in questo modo. Allora, io so con certezza, per i miei mezzi personali, che questo è stato suicidato. Ma nessuno... Si sono bevuti questo fatto del suicidio come se niente fosse. Cioè questo poveraccio ha aspettato vent'anni prima di suicidarsi e poi si è suicidato per ragioni che non c'entravano niente. È vero che i carabinieri si rompevano le scatole tutti i giorni per cercare di farsi dire loro quello che lui non aveva voluto dire la polizia. È vero che la polizia non l'aveva mai cancellato dalla sua mente. Però questo non c'entra con quello che è stato fatto passare come suicidio. Come se uno si potesse suicidare in 30 centimetri di acqua. Provate voi nella vostra vasca da bagno a suicidarvi, voglio vedere come fate. Non potete suicidarvi se non ci buttate quantomeno una cosa elettrica dentro. Per suicidarvi non potete pensare che voi andate al mare e vi infilate dentro l'acqua e quando non respirate più vi suicidate. No, perché quando non vi respirate più siete portati a fare di tutto per respirare, per alzarvi. Soltanto una mano che vi tiene lì sotto non vi fa respirare e quindi vi suicidate. ciò nonostante questi signori hanno fatto tutto. Quindi quando noi diciamo che il processo era già scritto, diciamo una stupidaggine perché non è quel processo che era già scritto. Tutti i processi che si fanno in Italia sono già scritti. Non c'è in Italia giustizia e non c'è giustizia per duemila motivi. Perché pur avendo noi dei buoni investigatori e dei buoni... Io non voglio prendermela con loro. Me la prendo con chi dà a loro degli ordini. E gli ordini purtroppo sono sempre ordini fuori luogo. Cioè che individuano un soggetto come criminale. Allora... Posso interrogrirla? Sono diciamo all'80% d'accordo con il professore perché la giustizia in Italia è una cosa molto difficile da raggiungere. Però devo anche contraddirlo perché in questo caso è la manifestazione che la giustizia esiste. Perché è stato sbagliato il primo grado. Ma secondo grado della Cassazione hanno corretto e hanno corretto pesantemente gli errori del primo grado. Per cui, bene o male, in qualche modo la giustizia si raggiunge. Fare la distinzione tra magistratura inquirente e magistratura giudicante. La differenza è enorme. Tra magistratura inquirente possiamo dire tutto il male possibile e immaginabile. e adesso aderisco perfettamente a quello che dice il professore. La magistratura inquirente a meno di casi particolari come in questo quando si aderisce acriticamente alla tese del pubblico ministero la magistratura inquirente normalmente è meglio e qualsiasi volta, anzi diverse volte riesce a rendere giustizia. Chiudo la parentesi e mi scuso con la contraddizione. Quando la magistratura inquirente riesce ad elaborare un'idea e riesce a tenere questa idea si rende conto facilmente che quello che gli sottocorre il pubblico ministero è ciarpame e quindi qualche causa si vince e qualche disgraziato può essere assolto. Ma perché un disgraziato possa essere assolto? Deve essere un ingegnere nucleare, non il povero Lindo. Allora, io direi che facciamo un altro giro e poi chiediamo al pubblico se vuole interloquire con noi. Bene, e allora cominciamo da te Paolo. Insomma, adesso è chiaro che nessuno di noi vuole fare nomi o entrare dentro una realtà complessa e complicata come questa, tra l'altro, appunto. Io però vorrei riprendere un attimo quello che diceva prima appunto il professor Bruno. A voi pare possibile che dopo quasi 30 anni nessuno ha ipotizzato un movente credibile per un omicidio tragico come quello di via Povo. Eppure è così. La magistratura non è riuscita a ipotizzare un movente perché poi chi è che lo deve fare? La magistratura, no? Paolo, tu un movente, ne abbiamo parlato smariate volte probabilmente, insomma, no? Ci hai pensato. Io credo che senza, ovviamente, perché diciamo tutti noi siamo per il rispetto, no? Quindi nessuno, per una sorta di deontologia, no? Per cui nessuno di noi dirà nomi di persone accusandole di aver commesso omicidi. Però, ecco, ce la fai a raccontarci la tua idea senza nomi? No, posso dire che qui parliamo di un soggetto che ha agito compulsivamente che però poi è stato aiutato da altri, da altre persone, questo lo sta... Ci sono vari elementi che lo dimostrano tra cui il sangue essiccato, il sangue sul corpetto che non c'è e quindi è passata, è passato un periodo di almeno un'ora che ha seccato appunto il sangue della ragazza. Dobbiamo spiegare, no? Sì. L'assassino, secondo appunto tutte le ricostruzioni che sono state fatte, poi prima di abbandonare la scena del crimine lascia il corpetto Simonetta indossava sopra la biancheria intima un corpetto di pizzo e lo lascia cadere sul corpo. Lo depone, lo depone. E questo non è sporco di sangue. Non è sporco di sangue, questo sta a significare che l'ha fatto minimo un'ora dopo e quindi o il soggetto che ha compiuto l'omicidio o, come credo io, poi qualcun altro intervenuto successivamente, danno la certezza che questo delitto è avvenuto in due fasi. Il movente è chiaramente un movente da rifiuto, posso dire questo, l'ambito è quello territoriale, l'ambito in cui è maturato questo delitto e molto circoscritto a dove lavorava appunto la ragazza perché vedendo le carte e esaminando appunto i documenti non si capisce perché non vengono poste ai vari testimoni, alle varie persone, chi lavorava con la ragazza, chi era nell'ufficio, chi comunque la frequentava. Determinate domande che sono le domande basilari dell'investigazione. Risulterebbe che il Volponi, che era, questo nome lo dovevo fare, ma come testimone, che era colui insieme a Bizzocchi che la mandò all'AIAG, non si è ancora ben capito se realmente conoscesse gli uffici di Via Poma o non li conosceva. Certi personaggi non sono stati neanche messi a confronto, quindi questa ragazza doveva riconsegnare le chiavi a chi doveva finire il lavoro quando tutte queste domande nell'immediatezza delle indagini non sono state formulate praticamente, cioè non le ritroviamo nell'interrogatorio. Ecco, quindi come dice il professor Bruno, gli investigatori non pensarono proprio a quel contesto evidentemente, perché se no avrebbero comunque sviluppato un'indagine in questo senso. Questo non è stato fatto. Allora, ascoltiamo prima l'avvocato e poi lascio la parola a lei. Ecco, allora, insomma, non ti chiedo ovviamente cosa pensi. Se lo chiedi non lo so. Esatto, non lo so. ipotizzo. Ipotizzi. Ipotizzi. Però, insomma, secondo te, ecco, ti faccio una domanda che forse ti può permettere di raccontare il tuo punto di vista. Secondo te c'è stato o non c'è stato un depistaggio? Oh, abbondantemente. Depistaggio, il depistaggio c'è stato, un depistaggio pesante. Di che tipo? Hanno fatto finta? Per esempio, facciamo, parliamo di una cosa di una banalità. Le scarpe, di Simonetta. Che stavano? Spiega dove stavano. Le scarpe stavano in un angolo della stanza dove è caduto l'omicidio ed erano perfettamente sbracciate e allineate. Ora, se prendiamo per buono la tesi che spareva poco prima lui che sarebbe un omicidio di impulso fatto per un rifiuto, come si può pensare che la ragazza toglie le scarpe tranquillamente quando stai facendo lo spogliarello in un locale le metti lì belle ordinate senza problemi quando ha questo problema impellente del tizio che la sovrasta. Evidentemente qualcuno li ha messi lì. Il secondo elemento è il colpetto. Ora, un omicidio di questo tipo, ipotizzando un omicida che non sia un killer di professione, ma è chiaro che la prima cosa che fa è vedere di scappare, vedere di cancellare il più possibile le sue tracce e andare via. quando una ragazza perde tre litri di sangue in quanto tempo si può essiccare questo sangue? Un'ora forse non basta. Il corpetto era assolutamente pulito. Ognuno di noi sa benissimo che quando si sbuccia un dito, si sbuccia un ginocchio prima che il sangue si raglumi e non sporchi più il fazzoletto basta almeno qualche ora o venti minuti. Sono tre litri di sangue che si devono asciugare. evidentemente qualcuno è entrato dopo. Evidente. Questo è il secondo tipo di pistola. Ne vogliamo parlare di un altro. Vogliamo parlare del computer. Il computer era acceso secondo la ricostruzione dei fatti secondo la logica seguita dal pubblico ministero questa ragazza avrebbe lavorato sul computer per tre quarti d'ora inserendo due dati che avrebbero comportato al massimo l'impiego di tre minuti. questo è un altro esempio ma possiamo farne tanti e tanti e tanti altri per esempio il fatto ecco il depistaggio da Rabanne una telefonata di cui non si capisce il contenuto perché dunque ricordiamo che Simonetta era ignorata praticamente da tutti tutti hanno fatto finta di non conoscerla addirittura addirittura il presidente Calaccio non sapeva neanche se fosse maschio o femmina questo soggetto che lavorava lì tanto per dire ora parlavamo del computer questa ragazza inserisce dei dati usando determinati codici improvvisamente un'ora dopo un'ora dopo aver cominciato a lavorare si rende conto della necessità di conoscere un codice che non conosceva che succede a questo punto tornando un attivino indietro la ragazza era completamente sconosciuta a tutti ha avuto occasione di parlare due volte due volte al telefono con l'abberettivo due volte con la sua collega due volte al telefono con l'abberettivo che non era la sua collega era un'impiegata un'impiegata sì dopo di chi aveva il numero del suo tutor quello che ha praticamente guidata e gli ha insegnati una voce aveva il numero della signora Baldi della sua agenda aveva due numeri del presidente Caracciolo due numeri non è anche uno il presidente Caracciolo è quello che non sapeva se fosse maschio o femmine non ha mai visto però lei c'era due numeri dell'agenda detto questo a chi va a telefonare la berrettini che non si occupava che non ha niente a che fare con il computer e con la contabilità nulla a che fare con il computer tanto è vero che la berrettini ha la necessità di chiamare la Baldi altra collega il capo dell'amministrazione per chiedergli il codice telefonata di ritorno perché si volette non chiama direttamente Sensi il suo tutor perché non chiama direttamente la Baldi ma chiama la berrettini che ha sentito due volte in vita sua e che era quella che appunto la conosceva meno forse l'ha chiamata per questo e se posso aggiungere una cosa a questa del codice che dice l'avvocato che è molto importante questo codice a seconda era stato già usato per se volete sì era stato usato in precedenza ma secondo quanto testimonia la sorella Paola Cesaroni non è stato inserito perché lei guarda lo schermo e lo schermo lampeggiava proprio in prossimità del codice esatto e quindi l'oggetto della richiesta e della telefonata non era stato usato non è stato usato quindi se io chiamo te per chiederti una password di entrata e poi la metto dentro o comunque subito dopo la telefonata e invece non è accaduto non è accaduto professore allora visto che abbiamo la fortuna di averla qua perché non ci delinea ma a proposito del depistaggio cominciarono a comparire dei segni evidenti di depistaggio quindi io mi allontanai mi allontanai perché naturalmente non sapevo che cosa sarebbe successo e infatti che cosa successe che trovarono un ignobile Pascazzone che gli ha fornito il nome del figlio dell'architetto come si chiama di Valle e lì ci fu un altro processo che andò avanti altro che su una lesione che non c'era e anche quella fu un fatto diabolico altro che morso il morso ancora ancora un poveraccio che non sa niente di medicina legale può anche pensare che potesse essere un ragionamento adeguato anche se noi sappiamo che un morso non è identificabile quindi io mi posso mordere quello che voglio ma nessuno mi può arrestare perché quello è il mio morso che è chiaro per Valle addirittura si inventarono di un non mi ricordo di che cosa di una una smagliatura una smagliatura sul braccio che doveva essere una coltellata non so che cosa e che forse ce n'è stato addirittura siccome Valle viene incriminato dopo e viene incriminato era stata una plastica era stata nascosta per un'azione di depistaggio perché non si può dire diversamente e i depistaggi furono tanti e io sottolineo nel libro qualche cosa che non so se è di facile comprensione comunque sottolineo che tutto questo è avvenuto via Poma perché via Poma è un ufficio è una zona di rilievo capito per cui non è che la polizia non avesse capito quello che ciascuno di voi e ciascuno di noi può capire in ogni momento ma semplicemente perché certi cognomi e certe situazioni in Italia non si toccano in questo quartiere qui di fronte possono fare quello che vogliono prendono un poveraccio qualsiasi e lo mandano all'argastolo senza pietà ma in altri nomi non si toccano e quindi e questo lo sanno tutti lo sanno non i questori e i prefetti ma i poliziotti di basso grado lo sanno benissimo che di fronte a certi cognomi è meglio non muoversi e in questo caso i cognomi erano molto forti molto molto forti questi cognomi che noi non possiamo fare che nessuno può fare sono lì sono scritti quindi andatevi a leggere il libro e risuovate bene allora qualcuno vuole interloquire con gli autori del libro? prego venga venga più avanti professore cioè venga più avanti se lei poteva aggiungere qualcosa su quel discorso di vaga un po' che è stato suicidato è un suicidio molto anomalo che è avvenuto il giorno prima che costui dovesse venire a fare la sua testimonianza per la questione di via secondo la maggior parte delle persone secondo tutti secondo la moglie tutti i familiari eccetera lui non voleva venire non sarebbe venuto e anche secondo io ero molto amico del suo avvocato il quale mi diceva che lui diceva guarda tu puoi non venire perché tanto tu sei fuori da andare a quel paese e non venire ma lui era molto preoccupato proprio per queste visite continue che gli facevano i carabinieri era molto preoccupato aveva paura che in qualche modo lo ritriassero dentro e per questo motivo all'ultimo momento aveva scelto di venire questa è una confessione che mi ha fatto il suo avvocato che purtroppo è morto e quindi non me la può confermare ma me l'ha fatta quando a un certo punto glielo ho chiesto con i denti di fuori perché avevo capito avevo saputo che nell'autopsia di questo disgraziato si erano inventati che lui per potersi suicidare in quel modo si era alcolizzato si era preso di se che cosa e invece nella sua autopsia non c'era niente non c'era niente quindi lui si sarebbe ammazzato legandosi una corda a una caviglia e gettandosi in un posto dove c'erano 30 cm d'acqua 30 cm d'acqua e se fai così ti metti la testa fuori capito? quindi non è possibile quel tipo di suicidio non è possibile però l'hanno fatto ci hanno messo un timbro sopra e così sta all'università di Bari autopsia suicidio chiaro? grazie